Il Cagliari Il Cagliari Il Cagliari Il Cagliari Il Cagliari Ma una vittoria del Bologna sarebbe forse stata una punizione eccessiva Per un Cagliari che ha finalmente chiarito le idee al suo allenatore Mazzone Cominciamo a avere delle certezze Pensiamo che nel giorno di ritorno possiamo recuperare dei punti Che in questo momento ci stacca dal gruppo, quello migliore, quello della salvezza Grazie a tutti